Ciao a tutti ragazzi bentornati in questo nuovo video, oggi siamo al safari di Ravenna sono con la macchinina elettrica che si può affittare direttamente qua naturalmente a un costo oppure si può andare anche con la propria auto adesso vi faccio vedere qualcosa di questo safari nella macchinina elettrica come vedete siamo rinchiusi nella gabbia eccoci qua ciao 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 guarda la giraffa Sara guarda la giraffa hai visto quanto è grande guarda non abbiamo preso niente da mangiare aspetta facciamo le patatine dentro guarda la giraffa guarda la giraffa guarda la gara guarda la giraffa guarda la giraffa guarda la guargore brava sono intelligente ciao ciao no no che ti lega il fatto basta basta e adesso siamo entrati dove sono i leoni eccoli qua ciao ciao leone ciao leone ti vuoi dare una patatina provo? no per terra no per terra no per terra ma tu con la maglietta contraria che caso mi frega di patatina non so carne non so carne non so male dove hai mascherina? ma che roba dentro oh mio dio eccola si è mossa no 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 sarà che ti mangia le dita che successe? ci hanno paura lui? tutto è un po' un po' mi pare che non 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 e 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 facciamo il nostro tragitto usciamo dalla gabbia dei leoni siamo stati anche fortunati che una leonessa si è avvicinata e dai leoni passiamo alle tigri e 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 eccoci qua agli elefanti e 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 con questo video è tutto io ho finito il mio giro qui a Ravenna Safari c'è anche un parco giochi per bambini molto adatto anche per i bambini bellissimo con questa occasione saluto anche Gianluca un ragazzo che mi segue consiglio vivamente di venirci perché è fantastico specialmente il giro con la macchina ve lo consiglio io in tutto ho speso 65 euro un ingresso per due adulti e mia figlia che ha due anni non ha pagato ciao a tutti vi lascio vedere anche parco giochi bellissimo che passare una splendida domenica ciao a tutti ci vediamo al prossimo video ciao